questo è il borgo marina alle 5 e 3 quarti 6 del 9 2013 la chitarina Baneara si sta svegliando questo è il ponte questa è la parte dove c'è il magazzino del sale mamma mia che casino che fanno queste macchine questa è la piazza si va verso la piazza questo è sto cavolo di ponte che è stato un fallimento si deve alzare 50 volte al giorno se è alzato due volte è andato fuori asse e guardando il cielo non ci sono i famosi aerei i famosi aerei come vedete non ci sono perciò vuol dire che quel tempo malato è causato da loro adesso facciamo un'incuadatura un po' più lunga delle barche è il sole che sta venendo su ok